Ciao runners e ciao amanti della corsa io sono Lorenzo Maggiani e questo è il podcast da 0 a 42 come raccontato qualche episodio fa tra pochi giorni correrò la mezza maratona delle due perle a Santa Margherita Ligure per la precisione sarà domenica 5 febbraio sarà il mio ritorno su questa distanza dopo praticamente tre anni quasi precisi dato che la mia ultima mezza ufficiale risale addirittura febbraio 2020 all'interno della White Marble Marathon ed era infatti stata tra l'altro una delle ultime gare svolte in Italia prima della pandemia in mezzo tra febbraio 2020 ed oggi sembra essere passata veramente un'era geologica non solo per quanto riguarda la corsa ma qua i discorsi facili luoghi comuni bla 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 potrebbero sprecarsi quindi meglio tornare a parlare di running per non andare a scadere in facili discorsi qualunquisti che poi per me effettivamente è comunque vero perché nella corsa nel giro di pochi anni è davvero cambiato il mondo quando ho fatto questa mezza nel 2020 non facevo trail ed ero anche reduce da una maratona di Firenze diciamo pure fallimentare e quella stessa mezza l'avevo anche affrontata nemmeno preparandola troppo bene allenandomi solo tre volte a settimana portando lo stesso a casa l'obiettivo minimo ma insomma niente di particolare aggiungo pure una cosa questo podcast in quel momento lì aveva visto la luce da veramente pochissime settimane ed è una delle cose che non è cambiata dai qua me la posso tirare un attimo perché in questi tre anni non c'è stata una singola settimana che non abbia visto la pubblicazione di almeno un episodio di da 0 a 42 e qua chiudo la mia flexata per dirla da giovani proprio il fatto che sia passato molto tempo dalla mia ultima sfida personale sui 21 chilometri è stato uno dei motivi principali che mi ha spinto a riprovarci vediamo se e quanto sono migliorati in questi anni mi sono proprio detto seppur questa mezza delle due perle non sia proprio la gara perfetta per cercare di fare un personale dato che al suo interno c'è un po di saliscendi non di certo roba da trail ma nemmeno un piattone dove far girare le gambe a manetta in ogni caso tra poco saprò e pure voi se volete potrete saperlo come sarà andata ma intanto vi racconto come ci sono arrivato a questa gara anzi prima di partire effettivamente con racconto dei miei allenamenti c'è una doverosa premessa quante premesse si fanno negli episodi di questo podcast questa non è assolutamente da intendersi come una tabella da copiare nel caso voi vogliate preparare una mezza per fare un pb ma neanche se non lo volete fare un personal best perché non è proprio una tabella sostanzialmente come ha detto il mio stesso coach andrea tarlao di destination unknown in questo momento io sarei più pronto per una 5 chilometri rispetto ad una mezza anche perché questa non sarà la mia gara principale della prima metà di 2023 e lo vedrete anche meglio quando vi racconterò dei mie lunghi in preparazione decisamente più lunghi scusate la ripetizione di quanto sarebbe necessario effettivamente per correre una mezza maratona e basta ma io in verità ho da preparare una 54 chilometri con dentro oppure del dislivello ma finalmente adesso veniamo a noi ho fatto una preparazione molto breve per questa gara decisamente compressa una sorta di tabellina bignami per la mezza questo perché ho affrontato nel periodo di fine novembre e tutto dicembre un fondamentale periodo di transizione e recupero dove ho diminuito chilometraggi numero di sedute settimanali ed intensità dei miei allenamenti questo periodo per me era veramente necessario perché il 2022 è stato parecchio impegnativo e dovevo concedere al mio fisico qualche settimana di riposo comunque di recupero e quindi per fare una mezza proprio al top ci sarebbe voluta qualche settimana in più ma va bene così non ci lamentiamo il vero periodo di avvicinamento alla mezza delle due perle per me è iniziato ufficialmente il 2 gennaio insomma con l'anno nuovo in sostanza ho fatto tre settimane di carico e due di tapering in vista della gara con soprattutto l'ultima molto molto leggera il coach ha pensato per me un focus soprattutto sulla potenza aerobica cercando di aumentare per quanto possibile in così poco tempo i cavalli del motore cioè in modo più tecnico la mia forza e specialmente il vivio 2 max sapendo che ovviamente non era un'impresa facile a maggior ragione in così poco tempo e venendo da un mese e mezzo di transizione ma comunque è una roba che allenata ora poi ci si porta dietro anche nei mesi a venire motivo per cui in tutte le settimane di carico adesso che vi racconto poi più dettagliatamente c'era sempre un workout dedicato a questa specificità anzi andiamo ancora più nel dettaglio appunto l'interagliatura delle settimane di carico è stata sempre la stessa sempre molto molto simile quindi ve la dico ora una volta sola per non stare per ripeterla sempre quando racconto le varie settimane e tediarvi a morte a lunedì c'erano 40 minuti di corsa lenta seguiti da 8 o 10 scatti brevi in salita e 10 minuti di defaticamento la seconda uscita settimanale era quella più difficile chiamiamola quella di qualità poi c'erano 45 minuti rigeneranti tendenzialmente al giovedì la quarta seduta prevedeva un fartlek che era sempre lo stesso anche questo ve lo racconterò solo una volta e poi nel weekend c'era lungo poi nel dettaglio delle settimane adesso vi parlerò solo degli allenamenti di qualità e del lungo tanto il resto lo ripeto di nuovo era sempre uguale la prima settimana è anche coincisa con una mia breve vacanza a padova e venezia ma sono riuscito comunque ad allenarmi pure in trasferta anzi rincaro la dose uno degli allenamenti più difficili di tutta la preparazione l'ho corso proprio a padova alle 6 del mattino al freddo e nonostante le gambe stanche dalle camminate del giorno prima è uscito fuori pure molto bene questi sono i misteri del corpo umano ma com'era allora questo allenamento di qualità appena citato c'erano una ventina di minuti di riscaldamento con corsa lenta poi 7 ripetute da 3 minuti al massimo possibile per me con altrettanti minuti di recupero fatti da corsa facile tra una ripetizione e l'altra e poi inevitabile cooling down il fartlek solitamente di venerdì invece era così fatto anche lui ve lo racconto solo una volta per non nominarlo più dato che come dicevo prima è rimasto identico per tutte le settimane di carico 20 minuti di corsa facile a seguire 10 scatti da 45 secondi a bomba con recupero attivo di 2 minuti e 15 di corsa lenta ma non lentissima su una scala da 1 a 10 come usiamo noi di impegno 6 quindi non la corsa mega di recupero quella rigenerante ma un pelino più impegnata infine altri 20 minuti di defaticamento ovviamente nel fine settimana c'era la long run di solito nelle tabelle che potete trovare online o in generale anche su qualche libro per preparare una mezza non si arriva mai a correre più del tempo o chilometraggio previsto per fare la gara invece i miei lunghi sono stati sempre da minimo due ore e infatti questo di questa settimana era proprio da due ore sono tornato dopo un sacco di tempo a correre i miei lunghi su asfalto ma per renderli più divertenti ci ho comunque sempre messo dentro un pochino di dislivello non tantissimo ma insomma qualcosina in questo caso erano circa 200 metri niente di che ma almeno non ho azzerato del tutto l'aspetto della salita e della discesa veniamo alla seconda settimana l'allenamento di qualità invece prevedeva qua un ladder cioè in italiano più semplicemente una scala da ripetere due volte più nel dettaglio solito riscaldamento di corsa easy e poi sei minuti cinque minuti quattro minuti tre minuti due minuti ed un minuto di corsa in soglia con un minuto di recupero con corsa lenta tra una fase attiva e l'altra e poi altri tre minuti di corsa facile e nuovamente questa scala sei minuti cinque minuti e così via sempre lo stesso modo infine altri 20 minuti di defaticamento ne è uscito fuori un bel workout in cui ho corso alla fine per 18 chilometri spiccioli complessivi al sabato due ore e mezza con dentro tre blocchi da 20 minuti da correre un pelino più intensamente della solita corsa lenta da lungo e anche qua ci ho dato abbastanza dentro sono usciti fuori poco più di 26 chilometri con 500 metri di dislivello e alla fine si è rivelata la settimana più impegnativa di tutte era anche da un po che non macinavo così tanti chilometri perché alla fine della fiera ne ho fatti quasi 75 in sette giorni certo ho fatto meno dislivello di tante altre occasioni ma insomma 75 chilometri per me non sono pochissimi nella terza settimana al martedì 6 per 4 minuti ovvero dopo l'immancabile solito riscaldamento sei ripetuti da 4 minuti corse al massimo che potevo con altre tanti 4 minuti di recupero con corsa lenta in mezzo ad ogni ripetizione per chiudere col solito poi defaticamento al sabato due ore di lungo stavolta tutte ricorsa easy il che si è tradotto in quasi 21 chilometri con 500 metri di dislivello positivo dopodiché i giochi erano già fatti si è fatto molto presto rispetto a tante altre preparazioni e da qua si è pensato allo scarico riducendo sensibilmente i carichi di lavoro la prima settimana di tapering ha previsto a lunedì 45 minuti di corso a lenta a martedì un fartlek abbastanza facile al giovedì altri 45 minuti rigeneranti al venerdì 7 chilometri facili con gli ultimi 3 chilometri in progressione e nel fine settimana una decina di chilometri lenti niente di che infine arrivava la settimana della gara che poi è questa se mi state ascoltando quando la puntata è appena uscita in parte stessa filosofia di vita della settimana precedente 45 minuti rigeneranti al lunedì ed un fartlekchino semplice semplice al martedì con 10 allunghi da 20 secondi giovedì corsa rigenerante e dal venerdì l'ultimo workout con mezz'ora di corsa lenta e qualche allungo nel finale in mezzo come sempre in tutte le settimane ho inserito delle sessioni di core stability e potenziamento generale che pure loro ho ridotto invece nelle settimane di scarico e infine solita spruzzatina di stretching e foam roller qb che mi fa sempre bene alla fine ed ora ci siamo manca poco poco al mio mirabolante ritorno all'asfalto chissà come andrà detto tra noi sono contento che questa preparazione sia già finita perché mi mancano i sentieri da selezionare divertentissimo fare le tracce e poi anche affrontare nel weekend potete anche vedere tutti questi allenamenti fatti e ovviamente pure quelli futuri su strava vi lascio il mio link del mio profilo nelle note della puntata fatemi pure sapere se sarete anche voi al via a santa margherita ligure che per me è sempre un piacere salutarvi per contattarmi i miei recapiti sono sempre lì nelle note dell'episodio oltre a quelli trovate tutti i posti dove seguirmi di modi per sostenermi uno su tutti è patreon dove potete anche partire da un solo euro al mese già questo per me vale moltissimo e per oggi ci siamo è tutto cari runners a sto punto appuntamento al via della mezza vi farò sapere anche vostro malgrado come andrà ci sentiamo alla prossima puntata